Filippo Schiavo, vice allenatore di Rio Junior Meccanica, ennesima partita infrasettimanale, si continua questo mese che porterà alle Final Four di Coppa Italia come appuntamento clou, si continua col campionato con due gare casalinghe, la prima contro Monza. Sì, iniziamo domani sera questo periodo che ci porterà alle finali di Coppa Italia, alla Final Four che si giocherà a Firenze all'inizio del prossimo mese. Sì, non è una novità giocare ogni tre giorni, ma siamo pronti per quello, siamo preparati a farlo, quindi non è assolutamente un problema. Due sfide importanti per la risalita in classifica in campionato, si parte appunto con Monza, squadra battuta 3-0 all'andata, quantomeno si tenterà di ripetere questo risultato. Sì, sarebbe un ottimo risultato, soprattutto in funzione del fatto che domenica, nonostante noi abbiamo portato a casa solo, tra virgolette, due punti, anche le nostre dirette concorrenti hanno perso punti su altri campi, quindi prendere la posta piena domani sera in casa qui al Palapanini sarebbe un ottimo viatico per continuare quella che è la nostra scalata verso posizioni un po' più nobili della classifica. Poco tempo per lavorare, l'abbiamo getto mille volte, secondo te come vedi la squadra, come è stato questo periodo, ormai è già un po' che c'è coach Gaspari alla guida, c'è stato poco tempo appunto per lavorare per la crescita, però qua alcune cose sono state aggiustate. Sì, è praticamente passato un girone, l'esordio di Marco c'è stato nella partita di andata con Monza, che non era esattamente nello stesso ordine del calendario, però più o meno è passato un girone, sono passati già svariati mesi, quindi diciamo che il cambio di alcune cose si è visto, stiamo lavorando, comunque anche è vero, giochiamo molto spesso, ma anche la partita è in sé per sé un allenamento e soprattutto nei giorni che precedono le gare abbiamo modo sia di preparare ovviamente l'avversario, ma di continuare a lavorare su quelle che dovrebbero diventare le nostre certezze, quegli automatismi che ci permettono di giocare sempre a uno standard minimo. Per te un ritorno a Modena dopo tanto tempo, investi diverse, come sta andando questa stagione? Beh, diciamo che sono tornato quasi a casa, nel senso che dopo quattro anni di cui due passati a Piacenza e due passati in Francia, quando è arrivata la chiamata di Modena c'è stato subito un canale preferenziale, un po' per tutto quello che riguarda la pallavolo e l'ambiente e anche proprio per tornare vicino a casa, non tanto per una comodità vicino agli affetti, ma anche per avere la possibilità di dimostrare qualcosa di buono e di mettere a frutto le esperienze fatte in questi anni.